14.225 mentre è partita la sgoba alle parallele asimmetriche la seconda dell'Ucraina speriamo ci facciano vedere almeno Carlotta Giovannini campionessa europea in carica molto bene, altissimo questo Jäger Gambiunite preso dalla gran volta il pack salto dallo stagio alto a quello basso dall'appoggio sullo stagio basso inferiore va a quello superiore giro di pianta mezzo giro e anche qui c'è doppio avanti, lasciato un po' presto le gambe non sono salite a sufficienza manca rotazione si arriva immancabilmente